Dobbiamo tenere presente che di fatto ci sono due forme, diciamo, di narcisisti che possono rovinarci la vita, il cosiddetto narcisista Overt e il narcisista Covert. Il narcisista Covert è, diciamo, quello nascosto, quello che, diciamo, in qualche modo è più difficile da riconoscere perché mantiene un basso profilo. Mentre il narcisista Overt è istrionico, narcisista manifesto, insomma, che tende ad essere egoista, egocentrico, arrogante e estremamente negativo. I narcisisti, comunque, la prima caratteristica che dovete tenere presente è che vi rompono i coglioni, perché necessitano di ammirazione costante. E questo è un fatto fondamentale. I narcisisti necessitano di ammirazione costante, quindi rompono i coglioni. C'è poco da fare. E' ovvio che uno perché non li vede? Perché, diciamo, per così dire, ha le fettine di prosciutto sugli occhi, no? E' una malga cozza e quindi dobbiamo tenere presente che desiderano essere adorati, no? Allora, uno che desidera essere adorato è un rompicoglioni, fondamentalmente. Quindi già uno che rompe il cazzo, questo potrebbe essere un narcisista. Di fatto i narcisisti ricercano l'ammirazione senza farsi scrupoli, fondamentalmente, no? Tra l'altro gli overt soprattutto fanno continue dichiarazioni di autopromozione. E' come se fossero, diciamo, al top. E' come se fossero, insomma, i narcisisti hanno tutta questa caratteristica di avere, diciamo, queste... di comportarsi in questo modo. Nonostante, diciamo, il narcisista per sua natura sia portato ad avere questa eccessiva, questo volere eccessivamente essere al centro dell'attenzione, il narcisista covert, dicevamo prima, si distingue perché appare con un basso profilo, quindi appare talvolta timido, impacciato, si presenta come una figura amicale, si presenta anche un po' leccaculo. Sotto i tuoi video c'è lo slogan delle tue magliette con la scritta Amalgashona? Eh, non lo so, non lo vedo, Vecca Carampana, ma strano perché non si vedeva più. Ah, sotto i video c'è? Boh, vabbè, sì. Ma c'è lì, poi dovrebbe esserci da un'altra parte. Ma adesso aspettate che ho creato un altro negozio. Aspettate un attimo, ordinario, perché ho creato due negozi, quindi aspettate un attimo, deve crearsi il negozio, aspettate, aspettate. Ha detto aspettate! Testa di cocomero, deve crearsi il negozio perché ho rifatto il negozio. Testa di cocomero, arancida. Allora. Ne ho fatte di nuove, ma deve, ci va qualche giorno. Allora, comunque, il fatto che i narcisisti tendino, il fatto che i narcisisti tendano, i narcisisti tentano. Stella Marina è sotto il rincoglionito, no? Ho detto di aspettare che sarà sotto il canale, minchiona. Quelli sotto i video non so cosa sono. Sì, ho capito, probabilmente è l'altro accanto. Adesso ho creato due negozi, testa di cocomero, arancida. Aspettate un attimo che è tutto ancora on the job, minchiona. Allora, comunque, dobbiamo tenere presente questo. Allora, le persone per il narcisista sono esclusivamente un mezzo per sostenere la propria autostima e soddisfare il proprio ego. Questo rappresenta, diciamo, rappresenta il narcisista. L'attenzione e l'ammirazione ricevute sono necessarie per riuscire a sostenere la sua immagine grandiosa del sé. Quindi questo rappresenta anche il punto debole del narcisista. Rappresenta anche il punto debole del narcisista. Per quale motivo rappresenta il punto debole del narcisista? Perché voi potete tenerlo per le palle, fondamentalmente, se gli date e gli togliete. Questo è quello che diceva la nostra vecchia carampana, la vecchia del gruppo, che è la nostra warm-on, che diceva come gestire il narcisista. Ebbene, se vuoi gestire il narcisista, devi tenerlo per le palle, tra virgolette. Devi capire di cosa ha bisogno, perché nel momento in cui capisci qual è il suo bisogno, hai fatto bingo, fondamentalmente. Hai fatto bingo perché praticamente questa persona non riuscirà più ad essere autonoma, non riuscirà più ad essere autosufficiente, perché tu li potrai dare, li potrai togliere. Quindi questo è il concetto di fondo. Bisogna imparare a contromanipolare il narcisista. E soprattutto non bisogna farsi delle paturnie, perché molte persone si fanno delle paturnie. Oh, poverino, ma io lo amo, io lo amo. Allora, queste sono tutte cazzate, sono tutte cazzate. Voi dovete pensare che ognuno di noi è, diciamo, artefice e causa delle cose che li captano. Noi non possiamo stare lì a dire, ma forse si comporterà in questo modo, ma forse si comporteremmo diverso. Beh, non basta ignorare il narcisista. Certamente, se tu riesci a ignorarlo è la cosa migliore, ma qui parliamo di un narcisista che in qualche modo ti abbia coinvolto. Spesso neanche sappiamo di avere a che fare con un narcisista, è per quello, sto rispondendo Ottavio Panzeri, è per quello che dobbiamo sgamarlo. Perché noi naturalmente, come esseri umani, abbiamo dei meccanismi di difesa. Però il meccanismo di difesa può essere aggirato facilmente, no? Vabbè che voi siete ignoranti, però nella Seconda Guerra Mondiale c'era la linea Maginot francese, no? Vi ricordate? La linea Maginot francese che era il meccanismo di difesa contro l'invasione tedesca, no? Questa linea. I tedeschi hanno invaso il Belgio e sono entrati in Francia dal Belgio e hanno praticamente bypassato completamente questa linea Maginot francese, no? Che doveva essere la linea che fortifica, e se li sono vinculati. E il narcisista fa così, cerca di aggirare il tuo meccanismo di difesa. Perché noi come esseri umani cerchiamo di salvaguardare la nostra dignità. A meno alcuni casi, diciamo, certo ci sono casi di masochisti, ma a parte il caso dei masochisti, che sono comunque pochi, i masochisti sono comunque pochi, ebbene, voi dovete imparare, diciamo, dovete imparare a riconoscere, quindi mettere in atto il meccanismo di difesa. Ma il narcisista ha presa sulle malgascione, ma non soltanto sulle malgascione, anche sui maschi, leggero, max, anche sui maschi ha presa il narcisista. Il narcisista ha presa su tutte le persone bisognose. Questo è perché il narcisista Overt ti fa sentire la regina, la regina, no? Il narcisista Overt è la regina o il re. Mentre il narcisista Covert ti fa sentire una divinità sempre, ma partendo dal basso, no? Come dire, quindi tutte le persone che hanno dei bisogni si agganciano al narcisista. E poi come ti fotte il narcisista? Ti fotte perché poi ti toglie. Perché il narcisista non è che ti fa innamorare con l'offbombing. L'offbombing è la fase di entrata. Ma il narcisista ti fa innamorare paradossalmente nella fase di scarto, quando ti manda a cagare. Tra l'altro ho fatto anche altri video che poi usciranno. Il narcisista utilizza sempre la triade, no? Ha diverse fonti di approvvigionamento narcisistico. Non è che ne ha una sola. Però teniamo presente questo, che lui o lei, diciamo, tende ad amare se stesso o se stessa sopra ogni cosa. E tra l'altro a credere che i suoi problemi, le sue esperienze, le sue opinioni, siano più interessanti, siano migliori di tutti gli altri. Si sente speciale. Pensa che gli altri siano inferiori a lui. Cioè, questo è un concetto di fondo. Ha un'idea grandiosa, mi viene da ridere. Mi viene da ridere perché io non penso che voi siate inferiori a me. Voi siete inferiori. Non c'è bisogno di pensare, scherzo. Comunque il narcisista ha un'idea grandiosa del sé, fondamentalmente. E crede di meritare un amore speciale. Cioè, il rapporto con il narcisista è un rapporto che non è mai un do ut des, da nessun punto di vista. Né sentimentale affettivo, né lavorativo, né in nessun modo. Cioè, non c'è mai il do ut des. È sempre un chi dà e chi prende. E lui prende e gli altri danno. E questo è un qualcosa di fondamentale. Per questi motivi il narcisista è convinto di essere, diciamo, al top nella scala della vita, no? E le sue aspettative, diciamo, non sono spesso all'altezza delle sue capacità, però. Beh, sì, ma quello di più ancora. C'è ancora un'altra cosa, Ottavio Panzeri. Io non credo che le persone di potere che governano il mondo siano narcisisti. Sono anche narcisisti. Ma le persone che governano il mondo appartengono alla triade oscura. E la triade oscura che cos'è? Sono le personalità oscure. Ed è un incrocio tra il narcisista, lo psicopatico e il macchiavellico. Ecco, queste triade oscure, questi incroci, come se fossero tre insiemi. L'insieme del narcisista che si incrocia con lo psicopatico. E il terzo cerchio è quello della triade oscura. Sono tre cerchi e la triade oscura rappresenta, diciamo, le persone che raggiungono le più alte vette perché lo psicopatico, in più del narcisista, ha anche il fatto che, diciamo, ha un'intelligenza acuta, ha un'intelligenza, diciamo, non ha l'esigenza come narcisista di gonfiarsi l'ego. Lo psicopatico e anche il macchiavellico, invece, è finalizzato sulle strategie, per cui sono molto più pericolosi dei narcisisti. Ci sono anche narcisisti, nel senso che, però il narcisista puro ha poi alla fine solo l'esigenza di gonfiarsi l'ego, di avere un egg ipertrofico, di essere adorato. Ma invece le personità oscure, le personità dark, hanno proprio l'esigenza di distruggere e hanno un'altra cosa in più rispetto al narcisista, che hanno gli psicopatici. Hanno quella che viene chiamata la falsa empatia, cioè riescono a capire i sentimenti degli altri, mentre di fatto il narcisista talvolta non si rende neanche conto di quello che prova l'altra persona o lo capisce soltanto, diciamo così, en passant. Lo psicopatico riesce a, lo psicopatico riesce a cogliere, è molto sensibile alle emozioni degli altri, quindi riescono molto ad entrare dentro. E quindi questo connubio, diciamo, di queste, si chiama tria d'oscura, quindi un connubio di narcisista psicopatico o sociopatico e macchiavellico, cinico, diciamo, il macchiavellico è una persona cinica, e beh, di solito sono quelli che sono a capo dei governi, soprattutto dei governi autoritari, diciamo, no? Perché poi nei governi dove ci sono delle elezioni, beh, bene o male ci mettono anche altri, ma questo tipo di personalità invece spesso vanno avanti. Non tutti ovviamente, ma una buona parte, insomma. Tipo il cinese, tipo Vladimir Vladimirovich, ma anche altri, eh, comunque. Comunque, sì, 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 Jinping. Comunque, in ogni caso, torniamo al narcisista. Il narcisista, ad esempio, non permetterà a nessuno di dire come fare le cose, non accetterà alternative, non accetterà correzioni del proprio errore, per cui il narcisista entra, diciamo, spesso commette degli errori. Mentre, ad esempio, lo psicopatico, il, il, la triad oscura, diciamo, le personalità oscure, sono anche più intelligenti da questo punto di vista. Prova empatia, sì, prova empatia nel senso che, prova empatia, nel senso che riesce a capire le emozioni delle altre persone, ma poi, essendo cinico, non prova pathos, non prova, diciamo, compassione. Cioè, la compassione non è la pena, è la compassione. Io desidero alleviare la tua, se capisco che tu soffri, ho compassione se desidero alleviare la tua sofferenza. Questo, questa la personalità oscura non lo prova. Ovviamente le personalità oscure, mentre i narcisisti, io credo ce ne sia iosa, diciamo. Le personalità oscure sono situazioni abbastanza rare, credo, non ho delle statistiche, però. Perché è un connubio di queste tre, di queste tre elementi. Contro i governanti, che possiamo fare? Beh, intanto possiamo, beh, cosa possiamo fare? Contro un dittatore di un'altra nazione, credo che abbiamo poco da fare. Qua in Italia dovremmo cercare, quando abbiamo la possibilità di andare a votare, di votare il meno peggio, anche perché il meglio non lo vedo. Però, cercare di votare il meno peggio. Però oramai l'Italia, diciamo che nel contesto mondiale, conta come il due di picche quando, nel gioco della briscola, conta come il due di picche quando seme fiori. Quindi conta niente. E quindi direi che a livello, diciamo, globale, purtroppo, pur dico purtroppo, siamo nelle mani di una soluzione finale, insomma. Sì, ma ripeto, da un punto di vista italiano, credo che tanto alla fine chiunque voti lascia il tempo che trova. Noi siamo in un contesto in cui, veramente, siamo il cosiddetto vaso di coccio, come diceva Nel Manzoni, in mezzo ai vasi di ferro. E quindi il vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro, che siamo l'Italia. Beh, conta la Cina economicamente, sì, ma anche gli Stati Uniti, ma anche la Russia militarmente. Purtroppo noi, diciamo, ecco, l'Italia, purtroppo il problema, adesso non voglio divulgare troppo, però non possiamo essere degli erbivori in un mondo di carnivori, perché il disarmo, per carità, è buono e giusto, ma se tutti sono disarmati e si disarmano, ma altrimenti si risulta essere erbivori in un mondo di carnivori e si fa una brutta fine, insomma. Quindi, e comunque l'Italia militarmente è un verme, militarmente è un verme l'Italia rispetto alle cose, quindi siamo completamente, diciamo, purtroppo così. Però, tornando al narcisista, il narcisista di fatto manca di empatia. Il linguaggio dell'empatia, il linguaggio delle emozioni è un linguaggio che non padroneggia, è concentrato sui propri desideri e quindi non è in grado di mettersi nei panni degli altri, non ne riconosce le esigenze. E quindi ti rovina perché? Ti rovina perché ti toglie energie, ti rovina perché ti toglie forza, ti rovina perché ti toglie... ti toglie tutto fondamentalmente. E questo è un punto fondamentale. In Italia sembra di essere barche in mezzo al bosco. Esatto, brava Patrizia. Beh, tutto non è inutile. Diciamo che, allora, tornando al discorso della geopolitica e dei governanti narcisisti, certo che non è inutile. Noi possiamo fare quello che possiamo, anche a livello mentale, diciamo, con la meditazione. Qualcosa possiamo fare a livello energetico. Certo è che se un folle decide di schiacciare il bottone del missile atomico credo che possiamo fare poco, perlomeno in questa vita. E vedremo nella reincarnazione che ci capiterà dove finiremo. Però vedremo. Purtroppo le cose che non possiamo gestire è inutile starsene a preoccupare, perché questo è un dato di fatto. I narcisisti, comunque, hanno un sé molto danneggiato, hanno un io molto danneggiato, quindi devono proteggerlo in ogni modo. Devono proteggerlo in ogni modo. Quindi quello è il loro punto debole. Tu puoi entrare nei narcisisti se riesci ad esempio una tattica utile per i narcisisti e farli fare un'introspezione. Cercate di farli parlare, se volete interagire, non volete allontanarvi, di quelli che sono i loro traumi. Buttate delle frasi del tipo avrei sofferto tanto, ma non tanto per, diciamo, come dire, perché vi innamorate o vi coinvolgete, quanto per manipolarli, per contomanipolarli, per andare a spezzare, a scardinare il meccanismo difesa, perché nella linea immaginò attraversare, scardinare la linea immaginò del narcisista ed entrare dentro, amplificare, di farli implodere, perché il narcisista se viene colpito dall'interno può essere distrutto. È lo stesso discorso di Putin. Io credo che Putin, l'unica speranza è che venga colpito dall'interno, che ci sia un golpe, che lo colpisca dall'interno e che lo faccia soccombere. L'unica possibilità dall'esterno la vedo dura. Quindi è molto importante riconoscere che il narcisista, nonostante l'apparente superiorità, si percepisce spesso come un vuoto e apatico e perennemente insoddisfatto a questo atteggiamento superbo, ma che va a nascondere una fragilità, un po' come un guscio di noce quando è rinsecchito dal sole. Quindi quando tu riconosci che è un narcisista inizia a stuzzicarlo, intanto non cedere alle provocazioni, perché una tattica che usano i narcisisti è quella del moonlight walking, no? Che ti provocano, poi tu reagisci alla provocazione e loro ti penalizzano sulla tua reazione, ecco hai detto questo, ecco hai fatto quello, vedi che e quindi ti fanno, cercano di farti sentire in colpa, cercano di rovinarti la vita in questo modo, quindi devi cercare assolutamente di evitare, diciamo, di accettare le provocazioni del narcisista, devi assolutamente evitare di vivere sensi di colpa, devi riconoscerlo, perché il narcisista ha questi comportamenti di cui abbiamo già parlato, tra l'altro una tattica molto semplice è quella del test del no, prova a dire no al narcisista, no, guarda io non sono d'accordo con quello che dici, noterai che raschierà, andai indietro, si toccherà il naso, si gratterà la testa in tutti i modi, perché il narcisista ha una sorta di idiosincrasia verso il no, quindi quando tu gli dici no, ma secondo me sbagli, no, ma secondo me non è giusto quello che dici, è praticamente lo colpisci fino in fondo, ecco, e quindi viene fuori il fatto che lo riconosci, perché quando il narcisista perde il controllo inizia talvolta a sviluppare aggressività, inizia talvolta a non connettere più, è lì che lo sgami e quando l'hai sgamato automaticamente ti si innesca il meccanismo di difesa, perché ricordo che l'unico potere che ha il narcisista è quello che gli dai tu, se non gli dai potere, se non gli dai forza, il narcisista di suo non ce l'ha, quindi è questo che dovete imparare a fare, se fate questo vedrete che riuscirete a non coinvolgersi con i narcisisti e ovviamente prestate attenzione quando il narcisista ti dice ma non hai detto mai quello, perché ovviamente un'altra tattica che utilizzano spesso è il gaslighting, no, farti passare per folle, farti passare per, tieni presente che poi il narcisista è bugiardo a 360 gradi, no, quindi bisogna diciamo riconoscere tutte le strategie di manipolazione, quindi la consapevolezza osservare i comportamenti è fondamentale, è un insicuro, giusto Stefi, ma noi non dobbiamo giustificarlo però, perché poverino è un insicuro, no, no, è quello un suo problema che deve risolversi eventualmente da solo, però io prima di tutto devo preservarmi, devo restare intatto, non devo coinvolgermi, quindi l'unica cosa che dovete fare è mai coinvolgervi, quindi l'unico modo per non coinvolgere è prima di coinvolgersi vedere chi è, vedere chi avete davanti, questa è l'unica modalità, l'unica possibilità. Il narcisista disprezza la verità e la logica, è un bugiardo e manipola la realtà dei fatti, non ha dei comportamenti responsabili, è un irresponsabile, è felice quando vede un altro soffrire, ha un senso di onnipotenza e di onniscienza, no, come il Dio biblico, Yahweh, un senso di onniscienza, ti stritolano, come dice Patrizia Perotti, anche nelle amicizie, per cui bisogna allontanarlo anche nelle amicizie e il narcisista bisogna torsare i coglioni, poi tra l'altro negherà tutto quello che dirai a un pensiero vuoto, a un sacco di caratteristiche nefaste, negative, bisogna evitare di fare un patto scellerato con il narcisista perché la relazione con il narcisista diventa un patto scellerato e il narcisista è spesso dissociato e quindi dobbiamo imparare a prenderne assolutamente le distanze, quindi l'unica cosa che potete fare è proprio questa di non avere diciamo è quella di non farvi incastrare, incastrare, pensate, incastrare nella relazione con il narcisista mettendo in atto il vostro giusto meccanismo di difesa che poggia le sue radici forti, le sue radici solide nella vostra autostima, nella vostra dignità dell'amore che dovete avere per voi stessi perché poi il narcisista se poi è anche un narcisista perverso cerca di farti paura, cerca di seminare odio, farà di tutto diciamo così per non essere ignorato, i narcisisti sono sia maschili che femminili con qualche differenza diciamo perché alle volte le donne la donna narcisista spesso si dimostra amorevole si dimostra sensibile si dimostra la compagna ideale che ogni uomo vorrebbe incontrare spesso poi la narcisista donna è una narcisista è una donna brillante che ti butta fumo negli occhi ti confonde a meno che non sia poi la covert che invece è quella bisognosa diciamo che però aggancia anche qua una certa tipologia di uomini quindi queste sono e molti grazie Noemi Puglia questi sono i tratti fondamentali dei narcisisti e sono le modalità principali per riconoscerle tenete presente che la relazione con un narcisista nelle amicizie o in qualunque ambito della vita è sempre nefasta come ha detto Patrizia Perotti anche nelle amicizie ti stritolano ti succhiano energie hanno atteggiamenti manipolativi talvolta dittatoriali svalutanti come ci può dire Perotti un'amica che mi svalutava in tutti i modi ma non è un'amica seminava di zagna piangeva si lamentava queste sono tutte caratteristiche che si sta elencando Patrizia dei narcisisti per cui in quel caso lì bisogna chiudere le porte in faccia oppure contomanipolarla però ovviamente uno anche può contomanipolarla ma se ne vale la pena perché se non ne vale la pena molto meglio chiudere alla fine come diceva non paradox come diceva il nostro Panzerotti come si chiama Panzotti mi ricordo adesso comunque questo è quello che bisogna imparare a fare è fondamentale i Panzotti sono un altro come mi ricordo qua io porca Eva con i nomi Panzeri 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 Ottavio Panzeri scusate con i nomi sono un po' dislessico Ottavio Panzeri e questa è la cosa fondamentale che bisogna imparare a fare sì i Panzerotti sono qualcosa di quindi in generale le donne narcisiste amano essere al centro dell'attenzione maschile il loro scopo primario delle donne narcisiste è quello di raccogliere elogi maschili anche a scapito di altre donne e questo è un problema bisoli narcisiste diciamo verso altre donne attuano a forme di bullismo praticamente perché vogliono essere al centro dell'attenzione sono invidiose sono sono molto invidiose sono molto maligne e quindi l'invidia diciamo è una delle caratteristiche 5 euro sono una di quelle caratteristiche fondamentali da tenere presente bene comunque detto questo imparate a riconoscere e a difendervi dai narcisisti e iscrivetevi al canale cari malgassisti